Come previsto si va al ballottaggio. Nelle primarie del centro-sinistra Bersani vince, ma Renzi lo tallona da vicino. Vendola è distante, mentre Puppato e Tabacci confermano di essere solo spettatori. Pierluigi Bersani ottiene il 45% dei voti, Matteo Renzi raggiunge il 35,5%, con Niki Vendola che non va oltre il 15%, mentre Laura Puppato si ferma al 3% con Bruno Tabacci all'1%. Boom di affluenza al voto con la partecipazione di oltre 3 milioni di votanti. Per Bersani è un risultato ottimo e la scelta di fare queste primarie è stata giusta. Anche Renzi si ritiene soddisfatto, sottolineando la grande partecipazione, ma ora si ricomincerà dal risultato di 0-0, mentre Vendola si arrende definendo queste primarie come una lotta impari.